Juve, ufficializzato il consiglio di amministrazione. Ecco la nuova Juventus. Come annunciato nei giorni scorsi, nella mattinata di Santo Stefano sono stati ufficializzati i nomi provenienti dalla lista di Exor che faranno parte della dirigenza bianconera presieduta da Gianluca Ferrero. Il direttore generale Sara Maurizio Scanavino. Quindi, Fioranna Vittoria Negri. Diego Pistone e Laura Cappiello entreranno nel consiglio di amministrazione. Juve. Ecco il nuovo consiglio di amministrazione e questo, il comunicato ufficiale della Juventus, con riferimento all'Assemblea degli azionisti di Juventus Football Club S. P. A. Juventus o la società, che si terrà, in sede ordinaria in unica convocazione. Il giorno 18 gennaio 2023, si rende noto che l'azionista Exor NV, titolare di una partecipazione pari al 63. 8% del capitale sociale di Juventus, ha depositato una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione. 1. Fioranna Vittoria Negri. 2. Maurizio Scanavino. 3. Gianluca Ferrero. 4. Diego Pistone. 5. Laura Cappiello. Juve, i nomi del nuovo CD è emersi dalla lista Exor e ancora, i candidati contrassegnati dal simbolo, hanno attestato di qualificarsi quali amministratori indipendenti ai sensi dell'articolo 148. 3. D. D. L. G. S. N. 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 Compensi spettanti ai membri del medesimo e a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in via Druento N. 175, 10151 Torino, sul sito internet della società, www.juventus.com, sezione club. Investitori, assemblee, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato un info, www.uninfo.it, virgola.